Soprattutto nei momenti difficili di stare con le persone che ti vogliono bene perché anche se sono solo due o tre persone, circondati con questo perché... Ho paura che siano molte di più, lo vediamo qui. Grazie Yannick, ti lasciamo andare. Grazie per tutte le emozioni che ci ha regalato. Grazie.